Presidente Sebastiani, si è chiusa la campagna estiva di calcio-mercato, intanto un bilancio partendo dal fatto che elementi come Risalde e come Brugman intanto sono rimasti. E poi questa operazione last minute con la Juventus-Bunino del Sole. Ma noi siamo molto soddisfatti di come abbiamo chiuso il nostro bilancio di mercato, perché abbiamo trattenuto i giocatori che il mister voleva trattenere. Sono arrivati quelli che, ma erano già arrivati quelli funzionari per questa squadra, abbiamo aspettato qualche settimana in più Capone perché era riduce dall'europeo. Pensiamo di aver allestito una rosa competitiva, poi in questo momento non ci danno per favoriti nessuno, meglio così. Così per la prima volta partiamo con la tranquillità di essere una squadra che deve dimostrare. E sono convinto che questi ragazzi dimostreranno che hanno un buon valore. Con Scamacca cos'è successo? Sarebbe stata un po' la ciliegina sulla torta? Ma no, Scamacca era un giocatore che avevamo cercato all'inizio, poi complice anche l'europeo, anche suo. Si è un po' allungato il tempo, poi alla fine io credo che Scamacca non volesse proprio venire in Serie B, perché si poteva fare anche qualche giorno fa. L'abbiamo cercato di farlo all'ultimo momento, purtroppo il mercato chiude alle 8 e quindi non è stato possibile. Però non era sicuramente un'operazione che ci doveva in qualche modo far fare la differenza. Era un'operazione per sostituire Bunino che è ritornato alla Juve, però noi abbiamo là davanti Cocco e Monachello di cui siamo molto soddisfatti e all'occorrenza c'è anche Mancuso che può fare la punta centrale, per cui l'organico, anzi, se dovesse rimanere il campionato come tutti quanti noi ospichiamo a 19, forse siamo anche un paio di elementi in più. Diversamente siamo giusti per fare un campionato come la Serie B che è lungo, estenuante, con tante aree infrasettimanali, quindi abbiamo un bel lavoro che ci aspetta, quindi il gruppo è giusto. Per chiudere la parte sul mercato, visto che in alcuni paesi il mercato è ancora aperto, ad esempio la Spagna, c'è ancora il rischio che Brugman possa andare via? Io penso che un giocatore come Brugman non sia un giocatore da aspettare gli ultimi giorni, se la Spagna avesse voluto farlo, poteva farlo all'inizio, non credo che ci sia questo pericolo, però è chiaro che fin tanto che i mercati importanti sono aperti ti puoi aspettare di tutto, ma non credo che ci sia questo pericolo. Il B a 19 squadre, quali le conseguenze, visto che il format, almeno come retrocessioni, promozioni, dovrebbe restare inalterato, quindi quali saranno le conseguenze e poi si giocherà chi aria tira? Il B a 19 è un primo passo verso quella riforma dei campionati che tutti quanti sventolano e poi quando arriva il dunque nessuno vuole fare, perché si continua a voler tenere la Lega Pro a 60 squadre, secondo noi, sono anni che ne parliamo, bisognerà andare verso una riduzione delle squadre, perché ci vuole sostenibilità dei club per evitare che poi succeda una situazione come quella di quest'anno, che sicuramente non fanno bene al calcio, non fanno bene all'immagine del calcio e va anche contro gli interessi dei giocatori, perché seppure le società falliscono, è inutile difendersi un posto di lavoro che non esiste, è molto meglio averne uno tranquillo e sicuro e secondo me la riduzione dei club in tutte le categorie alzerà anche il livello, perché non è più possibile pensare che si faccia un mercato di Lega Pro dove ti chiedono solamente l'età del giocatore, nemmeno il nome e magari gente che ha due o tre anni di campionato, che ha 100 partite in Serie B, in Serie C non riesce a trovare squadra solo perché è un 95, questa cosa deve cambiare, bisogna tornare alla qualità se si vuole alzare la qualità del calcio italiano. Grazie a tutti.